Dopo il mio video che ha fatto molto successo tra l'altro sul DLSS, non potevo esimermi ovviamente dal portarvi un contenuto su quella che è l'ultima novità di cui si sta discutendo in questi giorni, ovvero l'introduzione della RTX Super Resolution nei driver di Nvidia. Che cos'è questa bellissima opzione? Niente, è un'opzione attivabile dal pannello di controllo Nvidia e che è presente aggiornando semplicemente i driver agli ultimi disponibili che sono i 531.18 e che funziona su tutte le RTX 3000 e RTX 4000 e vi consente di migliorare tramite i Tensor Core e tramite l'intelligenza artificiale la visualizzazione dei video sui principali browser, ma anche su piattaforme come Netflix, Prime Video e tutte le piattaforme di streaming. Ma prima di entrare nel dettaglio ovviamente di questa nuova funzione e funzionalità, chiamiamola come volete voi, io vi ricordo ovviamente iscrivervi al canale, che state aspettando? Non potete non iscrivervi, siete tantissimi che mi seguite, se solo la maggior parte di voi si iscrivesse al canale saremmo veramente tanti e arriveremo a numeri molto alti in breve tempo. Giù nella descrizione trovate ovviamente i vari link per seguirmi sui social, tra cui Instagram con il mio profilo personale MV Hardware e ovviamente il canale Telegram delle offerte, molto importante se volete risparmiare dei soldi quando acquistate componenti PC. Allora Nvidia ha presentato la super resolution millantando, come di solito fa sempre in questi casi, di riuscire a portare degli upscaling nei visualizzatori dei vostri video nei browser e arrivare anche a delle risoluzioni simili 4K, nonostante voi manteniate dei streaming a diciamo bassi, quindi si parla di 720p o 1080p e di migliorare a tal punto l'immagine che praticamente tra un'immagine in streaming 4K nativa e poi un'immagine invece upscalata tramite questa tecnologia non ci sia nessuna differenza. Però siccome poi quando parliamo di queste cose entriamo anche un po' in quello che è il campo dell'imaging in generale e siccome io personalmente penso che sia una minchiata, è una palla, è una stronzata perché se uno streaming è in 720p quella risoluzione resta 720p e poi viene in qualche modo migliorata in modo tale da darvi una qualità superiore e per poter capire questa cosa una volta per tutte ragazzi vi attacco il pippone su un esempio, vi faccio vedere praticamente di che cosa parliamo quando noi parliamo di imaging e di risoluzione e perché invidia in realtà dice cose non vere quando pubblicizza lato marketing alcune funzionalità che sono utili ma che vedremo in realtà non sono quello che vi vengono presentate, sono qualcosa di diverso. Apriamo Photoshop e come potete vedere qui abbiamo una bellissima immagine che ho scelto per voi dai miei archivi di un pappagallo questa immagine non è mia, chiedo scusa a chiunque abbia scattato questa immagine se la sto usando come un esempio ed è un'immagine che è diciamo una risoluzione scalata per così dire una risoluzione derivata dal 4k perché sono due immagini identiche messe vicino e queste immagini hanno una risoluzione di 1920x2160 la risoluzione come la intendiamo noi o per definizione altro non è che il numero di punti che costituiscono un'immagine nel caso di un'immagine digitale noi parliamo di pixel quindi quando diciamo un'immagine ad alta risoluzione stiamo intendendo semplicemente che quell'immagine è formata da un alto numero di pixel in questo caso 1920x2160 fatevi la moltiplicazione e vi trovate tranquillamente il numero di pixel che compongono l'immagine ma la qualità dell'immagine è qualcosa di diverso perché è una somma di vari fattori in cui la risoluzione spaziale ovvero quella che intendiamo noi la grandezza dell'immagine è solo una delle varie variabili ma entrano in gioco tutta un'altra serie anche di fattori e un fattore molto importante oltre alla risoluzione spaziale è sicuramente la cosiddetta risoluzione di contrasto che è qualcosa di differente perché per definizione la differenza è sostanziale perché la risoluzione di contrasto non è altro che la capacità, quella risoluzione per la quale noi riusciamo a vedere come distinti due punti molto vicini tra di loro, due zone molto vicine tra di loro quindi si parla prettamente di informazione contenuta all'interno dell'immagine che è in parte sulla risoluzione spaziale quando noi abbiamo un'immagine ad alta risoluzione spaziale abbiamo semplicemente un'immagine grande quando noi abbiamo un'immagine ad alta risoluzione di contrasto significa che in quell'immagine abbiamo informazioni tali da poter distinguere come unici anche parti dell'immagine che sono molto molto vicino tra di loro e quindi noi abbiamo un maggior dettaglio vi faccio un esempio molto banale se noi prendiamo questa immagine, ok? è come prima cosa, per esempio, io su questa immagine gli vado a togliere la saturazione su una delle due ecco qua, sulla seconda vedete che in realtà l'immagine in risoluzione spaziale non cambia sono due immagini completamente identiche e hanno la stessa identica risoluzione ma secondo voi quale delle due immagini contiene un'informazione maggiore vedete che togliendo la saturazione noi andiamo a perdere tutta una serie di informazioni e non riusciamo più a distinguere come unici magari zone che prima noi riuscivamo a distinguere perché il colore la fa ovviamente da padrono vedete tutta la zona dell'ala, questa parte russa dell'ala che nell'immagine accanto perde ovviamente di informazione perché noi togliendo il colore perdiamo la differenza fra le varie zone e anche giù nell'acqua, dietro nel verde noi perdiamo molto dal punto di vista della qualità dell'immagine o qualità intesa come informazione contenuta nell'immagine stessa questo è un esempio banalissimo che potete fare tutti quanti e tra l'altro un altro esempio banalissimo che possiamo fare oltre al colore è per esempio la luminosità di un'immagine perché nel momento in cui io prendo questa bellissima immagine e gli sparo la luminosità a mille come in questo caso oppure meglio ancora se invece della luminosità questa qua io prendo questa luminosità vedete come io nonostante resti sulla stessa identica risoluzione il numero di pixel non varia io ho una completa perdita dell'informazione perché sto bruciando i bianchi e in tutte le zone dove vedete la luminosità sparata a mille io ho una perdita di informazione quindi la seconda immagine avrà una qualità peggiore rispetto alla prima immagine non andando a toccare minimamente la risoluzione possiamo continuare su questa strada per esempio oltre alla luminosità oltre al colore parlando ad esempio del contrasto o anche della saturazione perché nel momento in cui io vado in qualche modo a aumentare per esempio la saturazione a mille nella seconda immagine vedete come nonostante io non abbia toccato la risoluzione la risoluzione e la saturazione sparata mi fanno avere una serie di informazioni sebbene siano delle informazioni fittizie perché vengono da una manipolazione in questo caso della saturazione vedete come aumenta la risoluzione di contrasto della seconda immagine io riesco a vedere delle differenze tra parti molto vicine fra di loro vedete il blu qui dell'ala il rosso, l'arancione, il giallo e tutto il resto che invece nell'altra immagine non ho ok? e ovviamente però qui andiamo incontro poi come vi dicevo ad un artefizio perché l'immagine inizia a prendere una piega che non è reale questa immagine non è minimamente vicina a quella che è un'immagine reale e cosa ancora più che ci interessa da vicino nel caso in cui noi parliamo della super resolution e del cosiddetto effetto sharpening che poi è quello che viene utilizzato principalmente da questi algoritmi di elaborazione è semplicemente se io invece di mettermi a fare ecco qua questi giochetti io prendo la seconda immagine inizio a mettere un bellissimo filtro sfocatura vedete? andando a mettere un filtro sfocatura che succede? che la mia immagine cambia di risoluzione? assolutamente no la mia immagine è sempre un'immagine di 1920 ma io perdo completamente di risoluzione spaziale perché andando a sfogare l'immagine io non riesco più a distinguere due punti vicini tra di loro ma la cosa divertente avviene se io invece del filtro sfocatura vado a mettere il filtro nitidezza e ce lo metto per farvi vedere perché io sto registrando in 1440p ecco qua io ho messo un doppio filtro sfocatura oppure anche posso andare a mettere un filtro maschera di contrasto che mi va a migliorare nettamente ok i bordi dell'immagine quindi fermiamoci un attimo su questo perché questo è l'esempio che a noi serve vedete come la risoluzione dell'immagine non cambia ma l'aumento dell'antidezza che è semplicemente un miglioramento dei bordi dei vari bordi dell'immagine ci fa diciamo vedere l'immagine come se fosse in realtà più risoluta ma l'informazione dell'immagine non cambia ok l'immagine ha una qualità migliore perché aumenta in qualche modo la risoluzione di contrasto dell'immagine ma è un'immagine ovviamente artefattata cioè è un'immagine dove è stato semplicemente migliorato il contrasto e dei bordi e ovviamente la nitidezza in modo tale da ricevere questo effetto il punto fondamentale qual è che ovviamente tutti questi escamotaggi che possono essere usati sull'immagine producono una serie di effetti indesiderati perché se da un lato effettivamente noi abbiamo l'impressione di guardare un'immagine a risoluzione superiore seppure non è a risoluzione superiore noi abbiamo una serie di aumenti ad esempio del rumore dell'immagine quando noi andiamo a stressare la nitidezza andiamo a stressare il contrasto andiamo ad aumentare il disturbo dell'immagine e andiamo ad aumentare quello che è anche il cosiddetto effetto ringing cioè i bordi dell'immagine iniziano ad avere un aspetto quasi vibrante quasi come se fosse tremolante l'immagine perché viene in qualche modo aumentata la nitidezza intorno ai bordi e queste sono tutte diciamo cose che ovviamente l'intelligenza artificiale va in qualche modo ad apparare cioè va in qualche modo a diminuire quindi arrivando alla nostra bella Nvidia Super Resolution quando Nvidia giustamente ci dice che la nostra immagine viene upscalata in un'immagine a risoluzione superiore ovviamente ci sta dicendo una grossa fesseria perché questo è l'esempio con il quale Nvidia ci spiega la sua Super Resolution che è il risultato ovviamente di un super sampling fatto sull'immagine quindi un miglioramento netto dei bordi dell'immagine con un aumento ovviamente di nitidezza soprattutto sui bordi ma l'informazione contenuta nell'immagine in realtà non cambia perché quello che noi abbiamo è semplicemente un'immagine che ha dei filtri tali da sembrarci più nitida e quindi avere diciamo l'impressione di una qualità migliore che effettivamente è così l'immagine ha di fatto una qualità e una risoluzione di contrasto leggermente migliore ma non ha una risoluzione superiore anche in questo caso come potete vedere sull'immagine che è il risultato della RTX Super Resolution noi abbiamo una serie di disturbi abbiamo ovviamente i bordi con un effetto diciamo di tremolio quindi l'effetto ringing intorno per esempio soprattutto alle zone dove c'è una maggiore differenza di colori per esempio il grigio e il bianco qui queste zone che voi vedete tra l'ombra della facciata della chiesa vedete come i bordi diventano più netti e in qualche modo sembrano quasi finti perché diciamo l'immagine viene in qualche modo artefattata anche la zona dei mattoni che qui sembra leggermente più sfocata sembra leggermente con un effetto più blur viene ovviamente enfatizzata dalla Super Resolution e ci sembra quasi un'immagine a risoluzione superiore il risultato finale qual è? che questo tipo di elaborazione di immagine che può essere effettivamente utile quando noi utilizziamo dei browser o delle connessioni più lente ci migliora semplicemente la visualizzazione dell'immagine e utilizza l'intelligenza artificiale per farlo in un modo quanto più diciamo di alto livello possibile e ci riesce ma non è affatto un aumento di qualità dal punto di vista della risoluzione dell'immagine perché la risoluzione dell'immagine resta comunque quella quindi quando voi vi mettete e utilizzate uno strumento del genere dovete essere consapevoli che effettivamente è uno strumento utile quando voi avete dei video di scarsa qualità ma che non vanno a migliorare in realtà la qualità del video in sé ne vanno a migliorare dal nulla non è che prendono informazioni dal nulla e trasformano il vostro video lo renderizzano in qualcosa di superiore ma semplicemente vengono applicati una serie di filtri tramite un algoritmo che vi va a migliorare la visualizzazione dell'immagine e questo miglioramento della visualizzazione dell'immagine comunque toglie veridicità all'immagine stessa cioè non è più un'immagine reale non è più quell'immagine che è stata registrata tra virgolette da chi ha postato il video questa cosa ovviamente è utile per molte persone specialmente perché a noi non ci interessa non è che noi dobbiamo vedere l'immagine diciamo quanto più reale registrata ma in alcune situazioni ovviamente vi può portare ad avere diciamo delle immagini non proprio reale o realissime e in definitiva non è un upscaling di risoluzione superiore ragazzi non è un upscaling che vi prende il video ve lo porta in 4k a meno che ovviamente voi non andate ad impostare già una risoluzione più elevata del video ok? perché non è che la RTX Super Resolution vi imposta voi mettete a 720p in realtà il browser visualizza in 1080p e grazie all'intelligenza artificiale vi dà un'immagine meno pesante nonostante voi lo state visualizzando in 1080p no, non è così l'immagine in 720p punto e viene poi filtrata per darvi l'impressione che sia un'immagine a risoluzione più superiore funziona? sì è una buona opzione da attivare nel pannello? sì, sicuramente quando voi guardate un film quando voi guardate qualcosa vi può tornare utile è una cosa innovativa? no si fa da decine di anni non è che si fa adesso adesso semplicemente si è trovato il modo di implementare questi algoritmi all'interno dei Tensor Core quindi un'intelligenza artificiale che riesce a gestirli al meglio e non vi pesa tanto sull'hardware ma è una cosa che si usa dagli anni 90 questa qua non è che è oggi che si prende e si migliorano le immagini a bassa risoluzione tramite i filtri tramite lo sharpening tramite la nitidezza il contrasto e tutto il resto appresso ok? fatemi sapere come sempre voi che cosa ne pensate giù nei commenti io vi ringrazio di essere stati qui con me iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi